Riportare il dibattito e il confronto sulla giustizia e la riforma ad una dimensione più alta etica. Quale miglior luogo che l'università? Quella di Chieti in particolare, che in collaborazione con la Fondazione Nuova Italia e il patrocinio del Ministero della Giustizia ha organizzato il convegno Una giustizia per la comunità nazionale e per le comunità locali proposte e progetti, oggi all'auditorium del Rettorato. Un contesto in cui non si è potuto giocare con le parole e la retorica, dove trovare risposte da dare un'opinione pubblica stufa di togherosse, fannulloni e arroganti, ma anche di una politica to-cour che non ci sta ad essere processata e giudicata. È necessario uscire da questa, seppur non completamente, sterilità dialettica. La magistratura non può rivendicare una parità di decisione politica, così la politica invece deve riappropriarsi del suo ruolo nel senso di predisporre un modello di società, di istituzioni che servono a rendere la giustizia e si un sistema giudiziario garante dei diritti dei cittadini. La politica poi ha bisogno di un momento di raffreddamento, di quelle che sono le tensioni molte volte suscitate ad arte, se noi appena appena consideriamo quello che è di questi giorni dibattito sulla estinzione del processo e quindi sul nuovo disegno di legge presentato dal senatore Gasparri Guagliariello, che riprende un'idea che era già stata proposta nella tredicesima, nella quattordicesima legislatura da partire democratico. Ora ci sono delle differenze tra i due disegni di legge, ma il gridare allo scandalo di fronte a soluzioni che possono essere condivise o migliorate dall'una e dall'altra parte significa diventare uno scontro che non ha più senso se noi vogliamo realizzare una qualsiasi percorso di riforma. Il processo breve, seppur non incide sulla qualità, è una risposta ai tempi lunghi della giustizia, una certezza del diritto della quale il rappresentante del governo assicura non sarà un escamotage della quale beneficeranno, come spesso è accaduto in passato anche delinquenti e criminali. Parliamo di chi è incensurato assolutamente e quindi potrà avere questo percorso che tenga conto è un percorso di sei anni complessivi. Ora, in un paese civile uno dovrebbe essere esposto a tempi molto più brevi. Pensiamo al presidente del Consiglio che quando ricevette il famoso avviso di garanzia nel 94 a Napoli ha impiegato otto anni per vedere che fosse accertata la Cassazione che è fatto non tossiste.